Per ora Giulio è stato risparmiato dal cuoco del collegio che lo ha sostituito con un'altra gustosa pietanza Spiedo Bresciano di uccelli C'è gli uccelli quelli che volano Se è pollo lo mangio Tanta ha detto che è uccello, se è uccello è uccello non è pollo Voglio sapere la specie Scusa perché è pollo se è uccello no? Il pollo è una cosa etica Voglio sapere la specie Piccione Forse non a tutti è stato gradito il piatto del giorno Oh ma siete degli assassini però